E' bello a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video di Transformer The Dark Spark Oggi ragazzi sarà un episodio veramente triste Che è l'ultimo capitolo di Transformer Dopo questo finirà la serie E non la rivedremo più Sto rimanendo veramente male rapazzi Perché mi è piaciuto molto questo gioco E mo' lo finire insieme distruggendo Lockdown Ok qua eravamo al punto dove siamo scesi da lì Qua c'è B C'è bimble bee quindi qua Ok fa schifo lock down è una persona orribile questo e questo e il buco nero questo e questo e non mi hanno visto oddio un carremato e quello è più piccolo ci vuole tanto a massacrare questi ah peccato che con grim potevo avere lo scudo in un tempo eliminato fa veramente male sto colma una via alternativa bumblebee arrivo con te non mi ricordo come mi potevo tristare ok ci incontreremo scrivetemi nei commenti scrivetemi scrivetemi nei commenti qual è che vi piace di più tra quest'optimus o l'altro oddio noia il niche di condrift condrift si vabbè drift quello che è scusi amico mio però se lei rimane fermo morti tutti ma questo gioco mi mancherà molto perché ho fatto ci ho passato molto momenti belli quindi è il bumblebee ma con chi si aspetta ah con questo lancia missili lancia missili è quello del quadro oddio 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 quindi quindi Qui stava cercando di venire qui Grimlock è andato a dare la caccia ai mercenari Bellissimo Oh finalmente c'è Qui sotto andiamo Ma come ha fatto già morire? Ah Vabbè è già morto God Prima Perché stavo saltando Su cosi C'è C'è dura, mi prendo l'ultimo tech ah, di qua? oh wow un po' riduttivo è un ponte temporale temporale quindi forse per far tornare meca c'ho mega pippa in vita ah, la mega pippa ah, ma ve la ricordate? la mega pippa quella di sempre quello che mi ha smesso di funzionare tornare indietro in tempo lo farà sconfiggerà Optimus, lo ammazzerà e i deserti non c'erano è proprio come il vero Transformer un colpo e uccidi un titolo sono scassi ma qua sono tutti scassi Ancora stifosi Ancora No Ma perché Drifter? Cioè lui è morto così Così No Guarda 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 Stabilizmente Non ci sanno Infatti può riuscire del liquido Ho uno Me ne manca Muori È impossibile Ma almeno non può più urlare Dov'è? Oh lo sono fattato Ah ma sa Ma è troppo difficile Veramente raga Ci sono troppi addosso Oddio che volo Ecco ancora Ecco ancora Dobbiamo usciderlo Comba Adesso vado addosso No Oh Megatron Non ci sono vuole eh lo sapevo eh guarda guardalo come va lì I am not Megatron Dictatorship does not interest However Your interference has cost me a great deal Optimus For this I shall have recompense And this is why I ruled I will deliver you to Megatron myself After secreting away the matrix of you to ship So the war make it too Yeah Megatron's payment for you will settle our account Nice Let the darkness envelop you Optimus This new moves persisting I am never in darkness I have light within me We are not done Prime Face it Oddio Matrice potentissima Oddio Ce la farà Oddio Vai C'è rota? No adesso si bumblebee sicuramente se ne sta raggiando davanti ha rispettato il passato quindi noi siamo quelli che dobbiamo vabbè e lui chi è? eh oddio quanti optimus veramente eh vabbè addio no vabbè che cosa brutta che cosa brutta ti capito lì con drift con sunbui con swipe con sharp shot swindle 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 optimus vabbè jet fight quello che mi è piaciuto più sono stati quelli con bumble vi lo devo ammette eh pure questo mi è piaciuto tanto e pure quello con grimlock molto 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 bello vabbè ragazzi penso di concludere qui vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e di mettere mi piace a questo video ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video